L'unità è un vocabolo che in questo momento non sembra appartenere al centrodestra calabrese, maggioranza all'interno del Consiglio regionale che tornerà a riunirsi, forse, per l'ultima volta. L'unità non è stata trovata neanche sulla legge elettorale, uno dei punti all'ordine del giorno della seduta di domani. Neanche il vertice dei capi gruppo è riuscito a ricompattare le forze di maggioranza che sulle tre ipotesi in campo ha invece evidenziato spaccature pressoché insanabili. Forza Italia, ad esempio, sembra orientata ad andare al voto con il sistema attuale. Ennio Morrone, capo gruppo degli Azzurri, spiega perché. Ho qualche perplessità che possa essere cambiata, perché vede, un Consiglio che comunque, volendo, nolente, è delegittimato da una dimissione di un Presidente. Se andiamo a cambiare la legge elettorale, penso che potrebbe essere oggetto anche di un ricorso, quindi che si fa? Si va a fare una legge elettorale a Consiglio scaduto? Una posizione assai simile a quella del Partito Democratico, che sempre dalla mezzia ha fatto chiaramente capire di non voler andare oltre l'ordinaria amministrazione. Per la prima ipotesi, collegio unico regionale fanno il tifo i federissimi discopelliti, non tutto il nuovo centrodestra. I consiglieri regionali di Crotone e di Vibo Valencia, ad esempio, preferirebbero l'opzione dei tre collegi. Mantenere questo sistema elettorale, quello vigente nel 2010, non consente alle province di Vibo e la provincia di Crotone di avere rappresentanti sul territorio, quindi dovremmo per forza modificarla. Il mio pensiero è quello di andare verso il collegio unico Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia, che garantirebbe almeno tre consiglieri regionali. Su questo punto potrebbero dunque formarsi maggioranze trasversali, a difesa delle province più piccole, che rischierebbero di non essere rappresentate nel prossimo Consiglio regionale. Alla linea dell'Udc è quella dei tre collegi tradizionali, Cosenza-Reggio e Catanzaro assieme a Vibo e Crotone, però è aperta anche ad una proposta per una lista unica regionale. Certo, se si va ad una lista unica regionale non è più sufficiente una preferenza, ma dovremmo aumentare il numero delle preferenze. Tante, troppe le divergenze, allora potrebbe profilarsi un altro scenario che prevede il ritorno alle urne con la legge attuale modificata in alcuni punti. Innalzamento della soglia di sbarramento, sia di collizione che di singole liste, introduzione di più preferenze, attribuzione al Presidente del Consiglio regionale del diritto, dovere e indire i comizi elettorali, facoltà che ad oggi spetta al prefetto di Catanzaro.